buonasera allora faccio questo breve video per informarvi che all'interno del menu quindi del conto del sistema economico sovrano abbiamo ora disponibile operativa la piattaforma trasporti la piattaforma trasporti per passeggeri e merci via terra e via mare quindi invito tutti sia gli utenti già registrati all'interno del sistema economico sovrano che altri utenti che necessitano di questi servizi di iscriversi di usufruirne naturalmente all'interno della nostra piattaforma i trasporti sono free quindi niente non sono previste mascherine né green pass per uomini naturali viventi per uomini liberi quindi detto questo se avete dei conoscenti che hanno delle piccole imbarcazioni comunque svolgono il servizio di navetta tra le isole minori ma anche le maggiori per carità nel caso dovesse succedere di usufruirne di iscriversi di approfittarne in quanto che altro dire insomma ho già detto abbastanza ho già detto tutto quindi se avete dei mezzi disponibili iscrivetevi inserite i vostri viaggi per gli altri per i passeggeri il servizio insomma ribadisco è operativo si tratta soltanto adesso di inserire i dati inserire i viaggi è molto è molto comodo è ben fatto è una bella piattaforma e la trovate sotto la sigla io all'interno del menu del conto del sistema economico sovrano grazie a tutti per l'attenzione buon buon viaggio